Alle elezioni europee il Movimento 5 Stelle per coerenza con la popolazione politica ha deciso di inserire la parola pace nel proprio simbolo. Da molti mesi infatti diciamo che le azioni negoziali devono prevalere sull'ipocrisia del mandare esclusivamente armi in Ucraina. E sempre per coerenza il Presidente Conte ha ribadito che non sarà candidato alle elezioni europee. Riteniamo infatti che sia una presa in giro per gli elettori candidarsi sapendo che poi non si andrà a svolgere quel ruolo. Conte ha anche criticato la scelta della Schlein di probabilmente inserire il suo nome. Non è una critica alla scelta della Schlein, è una critica a tutte quelle forze politiche che in qualche modo prendono in giro gli elettori. Riteniamo che candidarsi alle europee sapendo già preventivamente che poi si rinuncerà anche una volta eletti a quello può portare a un vantaggio elettorale, sicuramente sì, invece è coerente con i propri principi e i propri valori.